Sono Roberto Keller, sono responsabile del centro regionale per i disturbi dello spettro autistico in età adulta e noi siamo assolutamente interessati a quello che è il percorso dell'inserimento lavorativo della persona adulta con disabilità, in particolare con autismo, in quanto riteniamo che il lavoro, come emerso da una ricerca che abbiamo condotto insieme al Dipartimento di Economia, dia principalmente un ruolo sociale alla persona con autismo adulto e anche va a valorizzare quelle che sono le capability, che come sappiamo sono quelle realtà che vanno a parametrare il valore di uno Stato, di una realtà, anche di una nazione, oltre a quello che è il prodotto interno lordo. Chiaramente per arrivare a quello che è l'inserimento lavorativo occorre fare prima un percorso valutativo che noi abbiamo validato e anche pubblicato su Brain Science, è poi necessario che questo percorso venga validato anche in diverse regioni, noi l'abbiamo fatto attraverso il progetto EVA nell'Istituto Superiore di Sanità e abbiamo proprio visto che questo non è sufficiente. Occorre da un lato creare dei percorsi dedicati formativi che sono stati fatti con diversi enti sia del terzo settore sia delle scuole di formazione professionali, arrivato ad un certo punto mancava un punto. Qual è il punto? Il punto è il matching e l'accoglienza che ci deve essere da parte di un'azienda nei confronti della persona con autismo e con disabilità. E qui il ruolo del disability manager, quindi un disability manager che venga a conoscere quella che è la realtà della disabilità, quella che è la realtà dell'autismo, ma che sappia anche valorizzare all'interno di un'azienda quali possono essere dei ruoli produttivi, utili, efficienti ed efficaci per l'azienda stessa in modo che la persona autistica venga valorizzata proprio per i suoi talenti e la sua specificità. Quindi utile anche creare i master e i corsi su disability manager perché serve una formare a professionalizzare delle persone che permettono la valorizzazione di questo tipo di incontro tra la persona disabile e l'azienda stessa. Il master disability manager si inquadra all'interno di una iniziativa più ampia che come scuola di organizzazione aziendale abbiamo chiamato Center for Business and Society che intende proprio analizzare questo terreno, quest'ambito, questa terra di nessuno tutto sommato tra profito e teno profito per cercare in qualche modo di capire come questi due mondi possono entrare maggiormente in connessione fra di loro, ibridarsi a vicenda e dare luogo a delle iniziative come questo master che hanno come obiettivo nello specifico formare una figura che sia in grado di seguire i processi che oggi vengono definiti di accomodamento all'interno delle realtà produttive di persone portatrici di disabilità e già nel termine di accomodamento si comprende qual è un po' il senso, non semplicemente assumere e introdurre all'interno di un'azienda ma anche cercare le condizioni per riconoscere e valorizzare al massimo le competenze, le capacità, le abilità di queste persone anche adattando il posto di lavoro stesso alle loro caratteristiche. Quindi è un tassello questo master di un'operazione più ampia il cui obiettivo come dicevo è cercare di avvicinare il mondo del profito e il mondo del non profito ma più in generale ancora guidare, supportare la transizione ormai sempre più ad oggi necessaria delle imprese verso modelli di impresa sostenibili e responsabili tant'è che appunto l'iniziativa successiva che faremo partire insieme a questo master si chiama appunto scuola di impresa sostenibile e responsabile. Il Rotary da sempre è interessato all'argomento della disabilità, da sempre ha seguito molti problemi, molti service e molti progetti che riguardano la disabilità. In questo caso è molto lieto di partecipare alla partenza di questo corso manageriale, di questo master che è a livello di importanza epocale perché per la nostra zona è la prima volta che si crea questo corso master per la preparazione di manager, di persone che siano in grado di governare l'ingresso dei pazienti o delle persone portatrici di disabilità, quale che essa sia, all'interno delle aziende, quelle pubbliche sia quelle private, è davvero molto importante. Sono Francesca Martinengo e mi occupo di comunicazione, ho lavorato sia nel pubblico sia adesso lavoro nel privato e sono io stessa una persona disabile quindi il mio punto di vista sicuramente triplo. Per quanto riguarda la figura del disability manager nel privato io ritengo che questo corso sia particolarmente importante perché il disability manager è una figura che comunque ci deve essere anche nelle aziende di medie dimensioni e deve essere una figura attenta ai bisogni delle persone disabili ma attenta anche ai bisogni di produttività delle aziende e deve essere capace quindi di inserire il disabile nella posizione giusta e in una posizione tale che per lui sia giusto il processo produttivo che l'azienda gli offre. naturalmente l'azienda non deve fare discriminazioni né dal punto di vista di genere né dal punto di vista di abilità disabilità. Buongiorno, sono Maria Rosa Pelleriti responsabile del servizio di assistenza sociale di impresa dell'Unione Industriale Torino. è stato interessantissimo partecipare alla giornata odierna. Il confronto fra aziende, interlocutori del terzo settore, il mondo universitario è fondamentale nel momento in cui vogliamo parlare di certi temi quali la disabilità ma soprattutto quando vogliamo parlare di un passaggio culturale. La mia realtà quotidiana di lavoro nelle aziende di fianco alle persone che presentano delle fragilità per se stessi ma anche per i loro familiari fa sì che capisco benissimo che non si possa mai lavorare da soli. Da sempre il lavoro dell'assistente sociale si caratterizza come lavoro d'equip. il confronto, lo stare intorno a un tavolo per realizzare dei progetti è la nostra quotidianità. Lo realizzavamo da sempre, da ben prima che la legge del 2015 introducesse questa figura particolare che deve occuparsi dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. dicevo lo facevamo da sempre perché è la nostra quotidianità delle disabilità psichiche ma bisogna veramente porre un'attenzione particolare su queste perché sono dei disagi ancora passatemi il termine che fanno paura. Fanno paura al lavoratore che li vive, fanno paura alla famiglia fanno paura al mondo del lavoro e quindi in quei casi veramente riuscire a mantenere il posto di lavoro per il lavoratore che ahimè ha questi problemi psichici o inserire nel posto di lavoro un malato con queste patologie è veramente un gran successo. Assistente sociale e disability manager sicuramente è un'ottima combinazione perché si mettono insieme più skill e quindi l'assistente sociale che è disability manager può arrivare a fare quei progetti di accomodamento ragionevole di cui abbiamo parlato, può fare un tutoring aziendale quindi seguire l'inserimento nel tempo ma può anche lavorare con il disability manager aziendale. Ne discutevamo poco fa. Le grandi aziende già si stanno portando ad avere queste figure al loro interno che sono poi degli HR specialist e sono delle figure importanti perché appunto come dicevo traghettano l'azienda verso il cambiamento culturale. Grazie. Grazie.